Ciao a tutti amici di Androidblog.it, oggi test di registrazione video in full HD con LG G Flex 2 Proviamo subito un rapido cambio di messa a fuoco Vedete, messa a fuoco con possibilità di essere fatta in modo manuale, abbastanza veloce Proviamo anche un rapido movimento per vedere la stabilizzazione del video E anche un controsore per vedere come gestisce i cambi di luce Proviamo anche uno zoom digitale fino addirittura a 8x Qualità video ovviamente non delle migliori ma stiamo parlando di uno zoom a ben 8x Quindi il risultato è giustificabile Vi ricordo, video in full HD con LG G Flex 2